Comissariamento o fusione con un altro istituto simile, sembra assegnato il destino dell'azienda di servizio alla persona Maria Cristina di Savoia di Bitonto, dopo le dimissioni comunicate ieri ufficialmente dal presidente della struttura Giuseppe Elia, anticipato di poco dal resto del consiglio d'amministrazione composto da Ezia Di Carlo, Giacomo Bruno e Francesco Murgolo, che si erano ritirati indietro già negli scorsi giorni. Un CDA in realtà dimezzato nei poteri, visto che il suo mandato era scaduto ormai da cinque anni ma continuava ad operare in prorogazio. Questo nonostante il nuovo organo, esiste già dal 2009 con tanto di nomine a mancare, è il nome del presidente dell'istituto, storicamente in quota PD ed indicato dal presidente della regione. Proprio le tensioni interne nel partito e i rapporti con la sede locale sarebbero all'origine dello stallo che impedisce al nuovo CDA di insediarsi ed iniziare ad operare, in una situazione generale già abbastanza complicata dal punto di vista economico, che ha portato anche al ritardo nel pagamento degli stipendi dei 22 dipendenti. Adesso l'ipotesi più probabile sembra il commissariamento, anche se l'ombra della fusione con un altro istituto simile è tutt'altro che lontana. In questo modo la città, dopo gli uffici giudiziari e l'ospedale, perderebbe un altro importante contenitore di servizi rivolti ai cittadini.